E se vedi ci rimane morto, guarda eh Guarda che c'è quello che si deve trasportare, te lo dico Ho trovato un modo per rianimarti, lo sai Ah, diamoci via i berserker di mezzo, per rompere i coglioni Ah, e la rift è da distruggere Che butta le palline Palline congelanti, palline... Palline di ogni tipo praticamente Più ne ha più ne metta, che cazzo di gusti Eh, io non l'ho buttato giù Il problema è che qua la cura è un po' un coglione Ste cazzo di palline Eh, un brassetto è portato, che dobbiamo Eh, un brassetto è portato Eh, un brassetto è portato Eh, un brassetto è portato Che ci muore subito Presa polgorante, bello, posto Sì, ma sto qua invece deve uscire Ottimo, questo rispauna Rispauna gente, lui Eh, la madonna Ah, non mi ha... Non mi ha rallentato nessuno Cioè non mi ha fatto usare l'abilità Ora sì Eh, ho capito Ma capito che mi sta colpendo Mi capita sta cosa, eh È quello che è morto Ah, è quello che abbiamo affrontato l'altra volta Ho capito Però ci sono anche sti cazzo di rift Che non ho capito che cazzo so Oh cazzo Eh, la madonna Ok, uno è andato L'altro palline è andata via Chissà uno è andata via Ok Ok, questo cazzo Ma questo vola Ancora sti... Sti palline Eh sì E poi qua Ok, uno è andato Tra con me, no Tra con tu Un'altra Caricamento Ma se siamo qui Dove cazzo stava caricando questo il colpo? Lui Non lo so Oh, l'ho bloccato Questa fulgorante Madonna che culo Si è un po' incazzato con noi Nananana Poco Ah, ce l'ha con me Non lo sapevo Ma che cazzo Ma poi L'hanno distrutto Appena si Oh cazzo Presa fulgorante Una presa fulgorante Che dà fuoco Madonna Ancora sto cazzo di lift Di coglioni No, perché tu lanci sta cosa Che non si capisce dove spari Ancora c'è andata Eh, vabbè Quanto è che la mia vita è? È 1800 La mia vita minima Ah, io me la fugo Eh, se c'è qualcosa Un po' si lancia qualcosa da... Eh, vabbè Bodo 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 Vieni fino qua Che sostengo ma lì è? No Calve Eh, se c'è una con me Ah Vado in giro Buon pollo C'è prima Oh, due lift ci sono Eh, volevi E uno è andato Sfruggiamo l'altro No, mi sono anche l'altro è andato Ah, non è quello qua Soltanto il materializzato Da una parte all'altra Di sotto è anche questo Andrò qua Ma si è di ginato la vita La vedo di nuovo tutta Eh, vabbè Mamma mia Dov'è la lift? Ah, l'ha spostato Eccola Non fa male lo stesso Ah, bene Ho capito che dovevo aspettarmelo Non ho capito come cazzo Fa colpire attraverso i muri Se schivo gli attacchi Si schivo gli attacchi Lo ti piglia Fa buono Sti cazzo di rift Che distruggi E te ne spuntano di dietro Sembra gli stessi Vabbè Una fuga continua Praticamente la mia Questo cazzo di gioco Guarda Sta fia solo a me Guarda Ah, c'è solo con me Ah, bene Non puoi andare a tenere su una patria Perché lì ti piglia attraversi i muri Siiii Puri pire sa sbloccata N'altra volta Siiii puoi divirtas bloccata N'altra volta Erezione grado 2 Dove cazzo è l'altro lift Ancora qua sta Non ho capito che cazzo Su sti cose Questo gli fa lanciare tutto quello che vuoi Addosso E va bene Bene Sfidiamo ma mi prende Cazzo schifo il pallo Non carichiamo Non è tutto bloccato come al solito Che cazzo Che palle sti cazzi di boss così 8 anni per buttarne giù uno Sì Ah sta puntando te punta a me di qua Ma con me Ma che c'ha gli occhi dietro al culo La pizza la pizza La pizza la pizza La pizza di Ma l'ha chiamato Y Sì Oh cazzo Eccolo Deve che sti cazzi di Oh che cazzo Ma No vabbè Impossibile C'è oltre a lui Ne se ne sono aggiunti due Ma perché abbiamo tirato mezza vita Due signori della guerra Ma te sei scemo Ma non è normale Sto cosa C'è che cazzo Come se non fosse già difficile Schivare le sue cazzo di palle Ma allora Putini signori della guerra Sono arrivati a rompire i coglioni Sì È impossibile Che cazzo è Che sta tirando ste cose Cioè Sto riparato Comunque mi ha preso Adesso il mondo di Gesù Ma è impossibile Sì L'abilità che non funziona Eh vabbè Sì sì Pure questi sono arrivati A rompire i coglioni È il problema Che stanno curando lui Eh appunto Ma vabbè Ma è impossibile Ma che cazzo fai A colpi tutti insieme Ma vabbè Ma Cioè andassi giù Con un paio di colpi Cioè Ma manco per il cazzo Cioè Sono più loro Che ci sciottano Che noi Penso di sì Ragipi tu dici Quella dell'agenzia Se è grigia Con scritto Franklin sopra No Ma c'è scritto Dietro la targa Cazzo non la vedo Ah eccolo FC più No è di Franklin Clinton Quella non la puoi modificare La puoi usare Ma non la puoi modificare Sì Tu diritti Ci sono in giro Eh vabbò E' quello che ti colpisce Quelli che ti colpiscono Bill Gates che viene a dirmi In questo gioco Non è per PS4 Ma no Non viene No Il rassalto tra le anomalie Questi fanno Sì Vabbè Poi pure tu no Io quando ho visto Quelle due macchine Con la moto Ho detto minchia Con la moto mi piace a me la moto Ma sono due moto Che mettono Ma una sola Scena di moto Ah no Quella lì sempre di Franklin Però devono raggiungere Raggiungere due moto Dove raggiungere Con questo aggiornamento Cazzo Ah io ho visto Stamuto qui no Non mi direi che me l'hanno regalato Ho fatto Pure Pure insieme alla macchina La San Martin No Ah ah Non mi direi che me l'hanno regalato Poi ho detto Lì mi sono entrato Poi fosse Mi sento E' passato Ma ragazzi Che mi ha giocato Non mi fa più le munizioni Bene A posto Ma dove cazzo sono finiti Tutti e tre Qua da me Eh erano qua da me Al invito Quello si è trasportato Non ho capito dove Qua da me Eh appunto Ma ho capito Sì ma non ha senso Questo vola Schiva Ma che dove va Sì Poi Una palla Una palla addosso Sti cazzi di palli Pagano 10.000 Per ogni colpo Che ti becchi Ma che cazzo Sta succedendo A quell'altro Però non ha senso Una cosa Ma sono diventati Di più Ne ho diventati più di peschi Io sono sempre due Ah sì vabbè L'abilità non funziona Eh ci fossero stati Ma piuttosto Avesse messo sei Sei signori della guerra Tre a testa Allora si poteva anche far Ma Qualcuno Io ho due Con quello lì Che non si può uccidere Eh allora Vivi il culo Ah stai usando La pistola Sì vabbè Eh vabbè Oh Puri i cosi Che volano Mose Poi Perché chiamo anche Quelli che stanno A Rift Town Lo facciamo prima Meno così Che cazzo Eh Questo qua che sta fa Sta tornando indietro Sta volendo andare a casa Che deve fa Dove va andare Mi tirano un colpo E te sciottano Quanto sismico Ho incluso Si è potenziato E' tirato più forte Di prima Ma che cazzate Ma mi stai chiesto Si è bloccato qua Ho fatto dare Qui Ma perché Non mi funzionano Le abilità Ah Uno si potenzia E l'altro Invece si cura Quello che c'hai Tu si cura E questo qua si potenzia Ah no Quelli che c'ho io Si curano Adesso E vabbè Io posso Che ci scrivo Più che non tolto Ti potrei Troverti Che non si scrivono Purtroppo È possibile Purtroppo Purtroppo Effetto Finché Qualcosa Che è di vostra Debolezza Io mi poco Me lo faccio Anche prima Tanto Mi sono toccarsi Fai i giri Degli scalini Sto a girare Gli scalini Sto a girare Non si cura Ah Ma quelli di prima Non si curavano Così tanto Cristo Era quasi morto Mezza vita Si è rimesso Anche io Adesso è così Cioè L'abilità di cura Mezza vita Ogni 10 secondi Che cazzo Pallo Eeeh Quello che vola Da me è venuto No Che ho visto Queste che volava Cazzo Che è morto È morto È morto È morto Allora di potenziamento Allora di potenziamento Allora di potenziamento Non vita infinita Però Dai Minchia Se riuscissimo A buttarne giù Uno Quello lancia Lancia granate Lancia Colpo sismico Sì All'anno prossimo Lontanissimo A presto Che cazzo Lontano 8 km Ti piglia Eeeh Sei curato Un'altra volta Senza l'abilità Gravi Complimenti Bello Quello che cazzo Senza che ho usato l'abilità Che sei curato E non ci aveva L'aveato di fianco Minchia Un colpo Sì Sì E non avrò usato 8000 di colpi 8000 colpi Tutti Che scassacchiazze Che sicura Senza che ha L'abilità Inserita dentro Però Che vogliono Ma piglio quello dietro Ma Cazzo O uno o l'altro Siamo sempre lì Un po' Quale di questi Questi qui Mi sono impedito io È da mezz'ora Che sto a sparare Questi E nessuno di loro Che muore Corpo sismico Un'altra volta È sicura Ma io vorrei capire Ma chi è che cura questo Se l'altro non cura Si cura Lui si cura Cioè Com'è che fa a curarsi Se non può curarsi Si curano Si curano È bello che si curano Cioè Non c'è quello Che ha l'abilità Si cura questo Non è di fianco È lontano E lui si cura E vabbè Il mio personaggio È deficiente Continua a salire Su cose Non deve salire Otto anni Boh Vabbè Vabbè Finiti i golpi Ho finito Non ho otto anni Finito Ovviamente i golpi Ho finito Si Ma va Senti fai una cosa Continua a calcurarti Che me ne vado Ma guarda Proprio a fanculo Me ne vado Continua a curarti Tanto Se cura a cazzo Così Armozzo Se cura A fanculo Non sparo più A nessuno Tanto se cura Frega il cazzo Curati Continua a curarti Più che ti fa ancora La massima vita di meta Continua a curarti Tanto Che cazzo gioco Fa sto gioco Continua a curarsi Non usano nessuna niente E si curano Cazzo dio Si curano Cioè Da che gli manca Pochissima vita E Tutta la vita All'improvviso Ma che cazzo Sto parla a fare Allora Sta a giocare Il gioco dei coglioni Boh Non ha senso Tanto mo Sei di cura Che devo fare Dove fare L'applauso E va a fanculo È morto Porco dio 10.000 colpi Per ammazzarne uno Che cazzo Ma manco Su The Division Il boss più Più feroce È così Cristo Ma manco Su Final Fantasy I boss Sono fatti così 20 ore di Una settimana Per ammazzarne uno Cioè Ma te dove vai? Ma tuo compagno Che fai? Batti di tirata Te nascondi dietro i pilastri Eh beh certo È normale Vabbè Vabbè Se capisci Oh grazie Questo si cura Senza fare L'abilità Vabbè Non ti attacco più Faccio prima Oh Te vuoi per mare Mi stai facendo Diventa scemo Che giri dietro i pilastri Oh Ma che stai a fa' Chiapparello Vabbè Questo si cura sempre Lascia ti curare E ti ammazzare L'altro che vola Ma ho capito già Ma che vuoi curarti Continua a curarti All'infinito Vabbè Vabbè Mi cura Minchia Questo manco mezza vita Si è tolto Ma no Non è ben sopportabile Questo gioco Porca troia Mi sono suicidato Comun coglione Si è suicidato Eh Ha buttato una granata Ma lì Eccolo si è curato Tutta la vita Si è rifatto quello Sicura 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 Che tal Questo segue me Sì Sai chi è Lo stupido Che ha messo Che noi ci fermiamo A livello 30 E i nemici Vanno a livello 42 Che è il coglione Che ha pensato Sta cosa qua Vorrei pensare Proprio di sapere Chi è il coglione Scrivono a me La squadra Che è il coglione Che ha deciso Che i giocatori A livello 30 Invece i nemici Continuano a salire Di livello Voglio proprio Ringraziare Il coglione Io lo scrivo In maiuscolo Porca Troia Non viene manco Verso di me Questo Sto continuando a sparare Ma non viene Verso di me Ma magari Questo si Questo che vola Si Che dovrebbe venire lui Verso di me Ma non ci viene Ma è bello Che ce l'ho davanti Io Ma è un po' un cazzo A me Non mi caga E gli sto poter Sparare addosso E io ti blocco Mi faccio Milt E lo blocco Scracci Te l'hanno Maria Ma hai visto Scracci Scracci Quello di prima Non gli faceva Porca Troia Quanta foca vita Eee Ma quanti Scracci Ci sono 27.000 Più andiamo Avanti Più Ancora Rimostacci Tua Aspetta Che questo Ti prende Attraverso Le pareti Oh E quella L'abilità Che devo Fai io Eh Pure questa Folgorante Deve le mettere Deve le mettere No A romper Cazzo Eh vabbè Ecco Si scrive Ti colpisce Comprimenti Per il gioco Ma questo Io sto solo Distruggendo le sfere Continua di mettere Continua di mettere Sfere Su sfere Ah ma questo Questo qua Ho capito Come si chiama Sto nemico Si chiama Sfera e basta Mette solo sfere Che cazzo Continua a mettere Ste cazzi di sfere Ma lui Non attacca mai Sfere e basta Cazzo Magari Si Shotato Così Senza Senza Non mi Presa Senza Il cazzo Vite Shot Vabbò Accanto Ce l'hai sempre Con me Quello Il problema Vabbè Vado Lì Mi Puglio Un po' Finiti I colpi Di tutto Ma Anche la pistola Mi dice Basta Non gioco Più Sì perché Non tolgo un cazzo Tolgo 5 Non so Non so Che cosa sto sparando A fare Penso A togliere 5 Non so Quanto potenziamento Si sia fatto Questo Ok Vabbè Lo scudo Di sto Cazzo No Scudo Sì Gli si è rifatta La vita Tu Ah E voglio Abbattolo Si Mi fa la vita Questo Tranquillo Però mi sa Che se non siamo In due Quello che c'è Di questo qua Non lo riusciamo A batterli Perché quello Si continua Di fare La vita Ogni volta Quanto è questo Avete le gravate Ma piuttosto Di morire Piuttosto Mi rimango qui E ammazziamo Tutti e due Uno solo E poi ci concentriamo Ancora su E sono arrivati Ancora gli stronzi A romper Il cazzo Questa che Te li blocco Va La serca Vola giù Madonna Ma questo Ogni volta Chiamano gli alleati No Non abbiamo Granate Cioè loro I nemici Sì Noi no Abbiamo i poteri Però Non è che funzionano Moltissimi I poteri Vai Che sta per morire Vaffanculo Che sei uscito In quella Con luce Digenerante E falco Io entravo nel gioco Ti staccavo le ossa Dal culo Tutto una per una Te le sto lievo Oh Aspetta Sto a fare L'attacco Con lui Così rimane fermo Gli posso buttare Quello Ma come Questi Mi schivano E lui Te piglia Guarda 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 Stanzata E schiva Lui Te piglia Squaccio Della anomalia Mo Fa ancora Sti cazzo Di Di sfere Stata solo queste E solo queste Fanno male Lui non è che fa malissimo Che riesce a sbagliare Gli attacchi Questi sono cecchini E non posso usare Nessuna abilità Di mobilizzazione Perché non servirebbe Oh Sfiera Presa Fulgorante Voi capire Come cazzo Ha fatto A quel tiro E va buo Però E continuano Facci ste cazze sfere Ma poi non te le insegna Sulla mappa No Sì vabbè Oh Passa un'altra Torno a casa Vedete se mi piglia Cargliamo Oh Eh Ma non ho l'abilità attiva E lui tanto E la stava buttata su di me Se hai girato verso di me A mi provvisa Ma se io M'allontano E schivo La stava Ma come cazzo Fa prendermi Eh vabbè Oh che cazzo Mi sta colpendo Lui Caricamento Eh Vediamo quel cazzo Di coso Che cazzo Eccolo Eh E mi piglia E mi prende Ma come cazzo Fa prendere Eh vaffanculo Ma cazzo Tutte le volte Quando non le posso bloccare Stranamente Molto Questo lo chiamo Stranamore Ma Mille nomi Questo Sì Vabbè Eh Non si porta l'abilità Non c'è il bersaglio Ce l'ho davanti C'è il bersaglio davanti 18.000 di vita Un colpo Via 18.000 Ma che è Cioè capimondo 15 C'ho l'armatura Che dovrebbe Proteggermi dai danni L'armatura fa Oh Ciao Sono soltanto Bellezza Ah vado in giro nudo Faccio prima Cioè Un giorno devo fare A livello 10 Mi fai con l'armatura E vedo che il cazzo cambia Perché il cazzo non cambia un cazzo Comunque un po' Ti scioltano Ah vada vada I colpi da cecchino C'è questo Ma con me Gli spari E all'improvviso Vai in Vai in potenziamento Da solo Poi usi l'abilità Non fa un cazzo Ecco lì Non so se ce l'avevo Uccidando il Taker Non è Mono Cazzo Guarda 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 guard 8000 di vita un tuono subito mi sono riparato i cosi di fianco mi sono spaventati si sono spaventati subito appena li ho visti c'è un altro dietro di la verità ho visto una palla che mi è arrivata dietro chi cazzo bloccato fin a fa quello di delle cose anche il fulgurante ah l'ho schivato questo cazzo di colpa che cazzo ah sti cazzo di lift di merda dove cazzo è molla oh eccolo ha spawnato lì ah l'ha spostato ah no ne ha ricreati altri dalle munizioni ma chissà chi è che fornisce i colpi qua spenderà tantissimo per noi carona cristo dio ma vabbò ancora queste palline oh Natale è finito che è qua che è qua ma c'era con me vabbè vabbè mi va vicino a cazzo così correndo faccio il digimon non c'è il digimon che correva e basta ma gli cazzo andiamo sui cosi e si c'entra lì o niente perché rimangono aperti non so se fanno danno a lui infatti c'è una con me vabbè perché io continuo a fargli danno praticamente esplosione che ha fatto e questa non la posso bloccare sono solo poco basso ce la con me io vorrei fare l'occhiolaggio ecco il zio oh eccolo ma perché dici che non c'è nessuno davanti che è lì che è lì che è lì che è la paletta oh non fa così no perché lo so che vuole buttare addosso a me sta cazzo di cosa ma sto piando vita o sta togliendo mi sono capito cioè non deve dire che sto piando vita poi l'ho impreso ce l'ho di meno eh no però eh che cazzo guardi lui poi quando fai presa del fulgurante guardi me eh sei figlio di troia allora eh scusi eh eh si gira verso di me e si gira lo stronzo guarda 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 sta vedendo me ma punta lui mi è impazzito il gioco mo che cazzo guarda eh questa adesso c'è la punta verso di me no è la punta verso dentro ma com'è qua in caricamento però no stavolta io non sto usando neanche la vita sta andando in caricamento da solo oh pesa fortunante più culo dimmi quando lo blocchi che ci oh neanche quando lo blocchi adesso quando si blocca automaticamente da solo senti Riff ma hai rotto il cazzo è una palla bella ma rompi i coglione oh ok qual'è il tuo guadagnato 200.000 ah eh eh il tuo guadagnato 200.000 ha fatto 3 missioni e ma eh ma è buono ma quello è buono il problema è che sui giocatori online che rompono i coglioni quello è il problema ma a me è ancora uno ma i coglioni oh sta fa l'abilità ma io la lascio la mano mi ha rotto le palle eh che culo a me boh c'è gente che ogni volta che entro su GTA mi dice sempre eh I need money eh eh che cazzo che cazzo vuoi eh modder you level mille ma che cazzo vuol dire ma uno non può passare l'account da PS3 e PS4 scusa eh io l'ho passato per non farmi tutto il coso da cavo ok no ho passato soltanto da PS3 e PS4 però però da PS5 non penso che da PS4 si possa fare PS5 però non lo so si 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 lo può fare però volevano dicevano che perché volevano bloccare perché c'erano tanti modder che mod su PS4 si moddano noi volevano andare su PS5 con i soldi infiniti diciamo eh eh si si perché hanno chiuso i server di PS3 ma hanno capito che ma gli modder si spostano da PS3 si spostano su PS4 è quello il problema eh allora no è quello il problema è quello il problema ma da puntato ci stupi cioè se se devi prenderti in GTA di PS5 ce l'ha avuto su PS3 e PS4 ci è inutile che lo prendi e lo potete rompi il cazzo cioè se le stesse cose cioè io infatti con Ted sto aspettando se Intero che esce doveva uscire a fare a febbraio poi c'è l'agosto però che mi aspetta quello se è un altro è un altro di GTA però dove c'è il cazzeggio proprio alla grande proprio oh cazzo pulmine mi ha lanciato sto figlio di droga allora punti me o punti lui? decidi eh ma a me mi punti soltanto con la presa fulgurante ma adesso è un troia eccolo guarda lo guarda allora sta puntando a terra oh caricamento eh sta puntando a me lo stroncetto però eh schivato eh non so chi deve puntare questo quando fa queste cose è appunto ma a me è una putatesca l'ho sbagliata vabbè scorsiono ma lì c'è più di qua caricamento lascia da te chissà chissà quanti stati ho in fretto i nemici che stavano qua sinceramente mi fai quel caricamento lì? uuuuuh blocco pure io così li levo un pochettino di vita in più io solo quella gli posso fare posso immobilizzarlo ogni tanto anche tipo a destra però ma c'è qualcosa lì di merda una cosa mi ha colpito che mi arriva tentato il colpo si eh capito ok lo posso bloccare un attimino non riesco manco a prendere in testa eccolo ora appunto a me mi sa si è bello però l'ondina che lancia lui non la presa fulgurante di merda io ho schimato ma qui blocco grande quindi devo dire che bel bastardo anche questo è è fuori dall'anello si ecco ok uno è andato questo va ah è fuori dal oh buono tu ti copri con quelli? ti butto quello non c'è problema sto giù i lift ci sono loro che buttano giù me noi che butto giù loro ancora altri due non c'è madonna che devi fare non voglio dire come eccolo e io ti butto eh vabbè cazzo cazzo ma dopo mi sa che i lift scompaiono da soli non so io ci ho capito molti nel 10.000 gli tolgo la testa con questo e non gli faccio contare aio eh ma sei in testa di cazzo eh punta lui si gira verso di me e me la fa a me non muore più ah no era caricato eh vabbè si fermi lei si fermi eh vaffanculo allora mamma io mi colpisco un attimo qui allora posso bloccarlo? si che cazzo si ma manco quello il blocco io con l'altra arma gli facciamo magari un pochettino un po' più male e mi faccio un cazzo iiii eh vaffanculo eeeh la madonna io lo sapevo che ha lanciato aiuto di me mi è più di così che lì sto ma ho tanta colpi in testa ma non muori è morto scusa un attimo mezz'ora di uccidi uccidi neanche una cosa leggendaria vabbè vabbè si capisce sta cosa eh ah lì c'è un'altra cosa devo fare ah porca che multana entra in ispezione al palazzo di morroi si e morroi di fra un po' diventavano oh che droga apri cancella quella contro i ferrari monoroi organizzava dei raid per dare la caccia ai bax in fuga e da quel punto che la sua mossa è arrivata sul serio ma non da parte dei bax o almeno non come si aspettava i ferrari di caccia non sono trattata ma monoroi non si diede per vinto e lo stronzo si è sento nel deserto per dare la loro caccia per scoprire da dove venivano così arrivò al canyon e scoprì il grande operisco lì finalmente comprese chi fossero i ferrari ma proprio in quel momento gli fu comunicato che la città era sotto attacco quello fu l'inizio della fine vedi mai sottovalutare una civiltà che può sembrare che e invece poi ah c'è qualcosa di qua? no c'è manco un file qualcosa no su si va su tastino sotto di qui? di qua è bloccato attenzione il dead va avanti va avanti da solo attenzione no di qua si va non c'è proprio niente di qua zero zero bel palazzo però con tutte ste luci fatte così benvenuti su dark souls praticamente è quello allora di qua si va verso di là ok ah c'è un collectibles un collectible ammutilamente ho l'ultimo diario della dottoressa come lo sai? l'ha scritto appena prima d'essere giustiziata da monroy cercò di negoziare una tregua coi packs pensando di placare i ferali se avesse consegnato loro monroy e invece non è stato così dov'è? no di qua si continua fuori ho raggiunto il terreno l'edificio è libero cosa vedi? meglio se vieni e vedi cosa il cuore dell'anomalia penso sia no? boh non è che capisco moltissimo ah una cassa mianto cazzo è lontana ok vedete dall'altra parte bello sto posto fate le mini le maxi bolle che non so cosa sia vedi lì invece che c'è? no aspetta di là c'è qualcosa invece qui c'è un trono non vorrei che una stronzata sembra quasi la fine del gioco no di qua c'era qualcosa forse eeeh beh beh se c'è Yalga che è la bossa del gioco ma qui ti si sospenti ne? è un pazzo non so se è morto boh vediamo vedi e invece E allora che cos'è quella? La fonte del maledetto segnale Il segnale di Monroi Non c'è alcun luogo oltre la tempesta Viene da là dentro, protetto dall'anomalia Esattamente come il collegamento nella valigetta Io proprio non capisco Neanch'io Non ha alcun senso La caravel è esplosa davanti a tutti durante la sua costruzione Anche se i terrestri fossero stati davvero in grado di ricostruirla Sarebbe partita dopo di noi Noi siamo stati i primi In ogni caso, ciò che è certo È che Monroi ha schiavizzato il popolo di August Li ha massacrati Così loro Sono mutati volontariamente in selvaggi Per potersi difendere Ho chiuso Con tutto questo Qualunque cosa vi aspetti su quella nave Io non ne voglio far parte Tiago Non puoi lasciarci adesso Non ti facevo il disertore Quello che hanno fatto al popolo di August Quello che abbiamo fatto ad August Non capite? Grazie per avermi lasciato venire con voi E rimagere in quattro E' ora di finirla Dobbiamo entrare nella canna E rimagere in quattro Pian piano il gruppo O chi muore O chi se ne va E rimagere in quattro